Ultimamente sono riuscito a spiegare meglio il mio sguardo su certe cose, che è uno sguardo maniacale, lo dico in partenza, è meglio che lo dica io che è uno sguardo maniacale, lo sguardo su certe cose di bellezza femminile naturalmente, sulla donna, sulla bellezza e su tutto ciò che è correlato sull'eros, il mio è uno sguardo maniacale a mio modo ed è anche uno sguardo inquietante, me ne rendo conto, e forse non mi dispiace più tanto, in passato mi ha creato problemi, adesso che il mio sguardo sia inquietante non mi dispiace più nemmeno tanto, perché è maniacale, perché è inquietante? Perché lo spiegavo, ne parlavo qualche tempo fa con due mie amiche, buone conoscenti che fanno degli spettacoli di striptease burlesque, non so mai questo pronuncio, meglio dire burlesque, così non dire burlesque, non divaghiamo, non divaghiamo, non divaghiamo, e io vado a vederle molto spesso, le ho anche filmate molto, e mi accorgo che quando vado a vederle io sono lì, in silenzio, anche delle volte che non faccio video, in contemplazione religiosa, ecco questo è un aggettivo importante, e questo può essere inquietante, perché le altre persone che vanno a vedere questi spettacoli, uomini e donne, ragazze, molte vanno a vedere questi spettacoli, lanciano allegri, frizzi e lazzi, insomma, è un divertimento, come giusto anche che sia, ma non solo, cioè è giusto che sia, ma può essere anche altro, e secondo me c'è dentro molto, molto altro, c'è la divinità della bellezza, della bellezza della donna vista da un uomo, ma potrebbe essere anche vista da un'altra donna, adesso non vorrei fare tutta una divagazione sulle questioni di genere, mi accontento del mio immaginario maschile, della mia sensibilità maschile in questo momento, chiedo venia se questo può essere un problema, penso che possa essere esteso a tutte le sensibilità, io guardo questo che è uno spettacolo considerato da alcuni anche banale, insomma, ne ho parlato nella mia poesia, le nude, ma anche in altre poesie, c'è nel libro nuovo che è uscito, le film alla commedia, che dovreste anche comprare, insomma, perché, infatti fatemi sentire un po' meglio, comprare questo cazzo di libro, c'è una poesia intitolata Meta Art, che in un certo senso riprende lo stesso tema, il tema di un'apertura, di una semplicità, ma non voglio perdere il filo, ecco, io le osservo così, in questa contemplazione quasi religiosa, quasi estatica, esagero volutamente le parole perché è un'esagerazione fino a un certo punto e capisco che questo può essere inquietante, può essere maniacale, perché se tu vuoi di giochi, scherzi, è un conto, se tu guardi, si dice proprio quello guarda come un maniaco, esatto, esatto, maniaco della bellezza, di questa bellezza femminile mostrata in un certo modo, mostrata in questo modo, perché, adesso forse il filo l'ho perso, no, volevo dire, ah ecco, no, volevo dire che sono riuscito a parlarmi con loro a un certo punto e poi anche con altre persone, anche un po' per chiarire questa cosa, perché è inquietante, ma ha il suo diritto di cittadinanza e uno sguardo, uno sguardo diverso. Io davanti all'esibizione di bellezza femminile, a certe volte quanto più è semplice, e questo è un punto importante, io mi sento come davanti a una celebrazione religiosa, come davanti al manifestarsi di una bellezza, un'epifania, quasi la trasfigurazione sul monte, non mi ricordo come si chiamava, Tabor. Sì, non ho paura di esagerare, perché i nuclei sono dovremmeno ve lo aspettate, forse, è soltanto la mia ipotesi di povero Cristo. Ecco, e devo dire che loro hanno capito queste due ragazze, per fortuna sono ragazze intelligenti e hanno capito la natura del mio sguardo e penso che, soprattutto una delle due con cui ho parlato di più, le possa essere anche in qualche modo gratificate, perché significa che tu non stai facendo soltanto un gioco davanti a gente che urla, che va benissimo, perché è giocoso, va bene, va benissimo, perché non sto criticando la gente che urla e fa battute, i frizzi, i lassi, anche i cachinni, i cachinni, vabbè, i cachinni sono alla presa, vabbè, quanto riuscirò a non dipagare. Il mio è uno sguardo affascinato e la stessa cosa è davanti forse alla natura, ecco qui poi la cosa si può estendere, perché forse serve capire non soltanto, non dovrei essere io spiegato, lo so, ma io sono fatto così, non soltanto la mia poesia pseudoerotica, perché io non faccio poesia erotica, tutti no per fortuna, chi mi conosce meglio no, ma chi mi legge così pensa che io sono tipo uno sciupa femmina, uno che gli piace la figa, insomma così, che è anche vero, ma in un senso un po' diverso appunto, è difficile spiegare quello, comunque io non c'è donnaiolo o tutt'altro, la mia vita è stata un continuo inseguire, è stata un continuo inseguire la bellezza non solo quella femminile, quella femminile in particolare, ma tutta la bellezza fugge, la bellezza, la bellezza del mondo è già nascosta, è questo il punto che alcuni non capiscono, non c'è bisogno di crearci sopra dei veli, non c'è bisogno di mettere dei veli sulla bellezza, né di un paesaggio né di una donna, il ti vedo o non ti vedo è un'invenzione nostra che serve non ad avvicinare ma ad allontanare, forse a proteggerci perché abbiamo paura e noi tendiamo noi, non lo so, l'essere umano in generale a velare la bellezza per un qualche motivo che adesso non so bene esplicitare forse, può essere per possederla a volte, ci sono i giochi del potere, ma non è solo questo, non credo che sia solo questo, io ho sempre cercato invece di disvelare, di aprire, di andare nell'aperto ed è per questo che, perché le mie poesie parlano della bellezza che c'è sul marciapiede sotto casa? perché quella è nascosta, anche quella è nascosta, non dico che non possa essere nascosta anche all'altro capo del mondo, è nascosta dappertutto, ma ha bisogno di essere svelata anche la bellezza sotto casa, la bellezza che sta tra un cassonetto e un'autosfasciata le erbacce che crescono, la macchia di gasolio c'è bellezza lì, non ci bisogna di coprirla, ci bisogna di scoprirla e questo anche nel caso della donna, io, io, nel caso dello spettacolo di spogliarello burlese c'è tutto un gioco che è molto bello, perché ti porta verso, però è attenzione è importante che sia uno spogliarello per me, infatti se qualche volta hanno fatto degli spettacoli analoghi anche quasi per bambini, sono divertenti, sono belli, però è un'altra cosa, perché non c'è il condurre verso la nudità, il condurre verso la nudità, anche se in quel caso non è completa, ma non importa simbolicamente, il percorso è quello e per me è importante, è divino, è quell'altra poesia che ho citato, è figurata Matt Hart nel libro nuovo che dovreste comprare, che io devo campare comunque con tutti i miei difetti dei videocampani e anche magari un minimo di gratificazione se lo comprate al di là insomma del mio denaro, perché anche io faccio quello che faccio, non ho mai creduto molto nell'arte, nella poesia, però fondamentalmente nella vita ho fatto questo, fondamentalmente è l'unica cosa che sono riuscito un po' a dare al mondo e se non vale niente quella pazienza, voglio dire, non è valso nulla, nulla, però se qualche volta ho la sensazione che è valida, magari un minimo di gratificazione, questo era solo per dire che potreste comprare questo libro nel libro, questo poesia Matt Hart dice, mi parla esplicitamente, io non ricordo di solito a memoria dei miei versi, che mi piacciono le foto in stile Matt Hart, le foto di nudo in stile Matt Hart, cioè coscia per artefica in vista, e non è scherzoso questo, ecco non si può generalizzare, ma io solitamente essendo i forum di fotografia, i club di fotografia, le mostre di fotografia, non solo erotica, però adesso non dibagliamo, parliamo di, perché poi succede questo anche nelle fotografie di un paesaggio, sembra che per fotografare bene un paesaggio bisogna complicare le cose, è questo il problema, tutti vogliono complicare le cose, e invece il procedimento è opposto, e tante volte mettono lì una foto e dicono, questa è l'opera di un grande maestro dell'erotismo, poi mettono lì un'altra foto e dicono, no, questo è un banale nudo volgare pornografico, io solitamente, senza generalizzare, ma solitamente il divino lo trovo nel banale nudo pornografico, in quello che questi sapienti fotografi o studiosi di fotografia piazzano sul versante del banale nudo pornografico, mentre tante volte nello studiato, l'erotismo del maestro che mette quel dettaglio lì, quella luce lì, toglie quella luce là, mette un panneggio qui, mette un filtro là, io vedo costruzioni fredde, fredde, ora non voglio ovviamente generalizzare, non sto dicendo che basta tutto quello da fare una donna a coscia aperta e hai fatto una meraviglia, mentre invece se fai tutto uno studio fai una cazzata, non voglio essere frainteso, dicevo però che in linea di tendenza la semplicità si basta e la bellezza si basta, è tutto il lavoro, non è scoprire, ma scoprire, a volte penso che il divino sia in questa bellezza infine semplice, pregnante e sconvolgente, perché alla fine lì c'è lo sconvolgimento, e che l'essere umano con tutte le sue costruzioni nella storia dell'umanità, lancio le mie ipotesi del cazzo, ma insomma ho diritto di farlo anch'io, lo fanno in tanti, la storia dell'umanità non sia stata un cercare di avvicinarsi al divino, ma un cercare di allontanarsene, forse per spavento, l'esoterismo, certe mistiche, certe costruzioni religiose, cosa c'entrano a quel divino? Lo coprono, lo nascondono, come un vestito copre un bel corpo femminile, o maschile, ma ho fatto la premessa prima che sto guardando la mia sensibilità, se no diventa troppo complicato. Ecco quindi, io ho uno sguardo maniacale, io ho uno sguardo maniacale quando guardo una donna spogliarsi e non faccio i frizzi l'assi del nightclub, ho uno sguardo maniacale quando guardo un servizio fotografico e mi emozionano sulle foto che per quell'altro sono banali, volgari, pornografiche, sono troppo semplici, è troppo semplice, questo è troppo semplice. E questo è uno sguardo maniacale perché invece bisognerebbe seguire tutte le costruzioni più letterarie, in fondo anche la poesia, cazzo. Ad avvicinarmi alla poesia del Novecento, io sono un ignorante, non ho mai avuto voglia di leggere, sono arrivato a 25 anni che ero fermo all'Ottocento. A farmi entrare nella poesia del Novecento è stato sì un po' montale, letto a scuola, sì, gli ossi di seppia, il primo montale, lì c'è semplicità, quella divina semplicità a cui noi complicati non siamo poi così capaci di arrivare. Ma quello che mi ha schiuso le porte a un Novecento più recente, adesso il tempo passa, anche lui è morto dal tempo, è stato Giorgio Caproni. Giorgio Caproni con i versi alla madre, con il seme del piangere, semplicissimi, assolutamente semplicissimi e immensi. Posso dire una cosa che i versi migliori di Caproni sono come la foto di una ragazza nuda a gambe aperte e non come una foto di un panneggio, ti vedo non ti vedo. Ed è faticoso arrivare lì, è faticoso arrivare lì. Poi certo voi direte ma invece fotografare una ragazza nuda a gambe aperte non è poi così faticoso se, però chissà perché anche quelle foto non sono tutte uguali, per come è la ragazza, certo per come si pone, per com'è anche la fotografia, perché abbiamo anche le fotografie che sembrano semplicissime. Io faccio delle fotografie raramente a donne nude perché le amiche di fuori non sono disponibili, le professioniste vogliono essere pagate, insomma io ho soldi a molti, quindi non è che fotografo frequentemente donne nude, fotografo frequentemente la natura e così nella mia semplicità di non professionista mi accorgo di come basta una luce che cambia nel cielo, basta spostarsi da qui a qui ed è un'altra foto, anche se quell'oggetto è semplice lì davanti, è semplice, se è un albero, se è una donna nuda con le gambe aperte, tu ti metti qui, tu ti metti qui, cambia tutto. Non è semplice la semplicità, però è divina, e chi ci gira tanto intorno allontanandola, in fondo io credo, ma non è una critica, io credo che chi davanti a uno street tease per esempio ben fatto, fa i frizzi dei lassi e le battute, simpatiche o volgari, secondo dei casi, lo fa per allontanare, chi scrive versi complicati, o apprezza versi dove non si capisce un cazzo, lo fa per allontanare, chi ama fotografie panneggiate, complicate, dove c'è un oggetto messo qui, un oggetto messo là, lo fa per allontanare, perché la semplicità della divina bellezza è spaventevole, ma è meravigliosa, io quando la guardo sono altro che maniaco, sono maniaco all'ennesima potenza e va anche bene così.